Giacomo Stucchi, come commenta le nomine effettuate da Matteo Renzi? Diciamo che chi si aspettava una rivoluzione copernicana, soprattutto legata al genere per quanto riguarda le figure apicali e quelle che contano il più, quindi di amministratore delegato, è rimasto sicuramente deluso. Il problema poi non è tanto per quanto riguarda la genere di appartenenza, ma è le competenze, il discorso delle competenze acquisite sul campo e non magari quelle competenze di cui tanti nominati dicono di essere in possesso, ma che nella realtà hanno dimostrato non avere, anche perché alcune esperienze professionali testimoniano come in un momento di crisi abbiano utilizzato la soluzione più semplice, che è quella di delocalizzare e quindi di mettere un sacco di persone in mobilità invece di affrontare la crisi di petto, magari mettendoci del proprio, cioè i capitali che hanno messo da parte in tanti anni. Ad esempio? Ad esempio parliamo della Marcegaglia che sicuramente in Lombardia, proprio in queste ultime settimane, ha messo in mobilità decine di lavoratori, dimostrando forse di non avere così a cuore il destino di tutte quelle persone che con il loro sacrificio e il loro lavoro hanno contribuito a creare ricchezza personale dei lavoratori sicuramente, ma soprattutto degli imprenditori e anche dei territori. Qualcuno però gli dà il merito di aver messo cinque donne all'interno di incarichi di potere? Ripeto, sono posizioni da presidente, quindi non da amministratore delegato, che è una cosa completamente diversa e quindi un ruolo sicuramente inferiore come importanza, come potere decisionale. È una scelta che è stata fatta soprattutto come scelta di immagine, non come scelta di sostanza, a parere mio. Ritengo che il problema però sia valutare le competenze e quello che queste persone hanno fatto nella loro vita e stanno dimostrando di fare in questo momento quando la situazione di crisi richiede scelte coraggiose. Non mi sembra che questi capitani di impresa in questo momento stiano dimostrando di avere un'attenzione particolare alle realtà dove hanno operato e dove hanno accumulato i loro proventi e quindi anche la loro ricchezza. A proposito di Finmeccanica, lei che cosa ha chiesto? Come Finmeccanica noi abbiamo chiesto di poter audire naturalmente i vertici, in questo caso dovremmo aspettare, visto che i vertici sono cambiati e il nuovo amministratore delegato Moretti dovrà acquisire le nozioni base per la conoscenza della struttura, ma essendo un'azienda strategica, come comitato, abbiamo chiesto di poter audire per capire quelli che sono gli indirizzi, se verranno confermati quelli della vecchia gestione o se invece verranno fatte nuove scelte strategiche, naturalmente il nostro obiettivo è quello di certificare che determinate scelte vadano nella direzione giusta, cioè nel tutelare l'interesse dei lavoratori in primis e della nostra industria.